Una delle piccole comodità di avere l'OBD a bordo Mi ero accorto l'altro giorno, la macchina andava benissimo però non l'avevo mai veramente tirata su una salita a un certo momento, siccome c'avevo uno che mi tampinava dietro ho detto ma vai ora, gli si dà una affondata ho picciato a fondo e mi sono accorto che oltre 4.000 giri tagliava e si è accesa la spia motore ah, ho detto allora, che banda è? quindi tramite l'OBD ho fatto un check delle spie ed è venuto fuori il codice errore immediatamente che sarebbe Fuel Rail Pressure Sensor Circuit il che già dà una certa indicazione sulle motivazioni dell'evento quindi insomma, intanto si è capito che c'è un... si vede un sensore di pressione della benzina che è guasto e questo problemino l'ho risolto ora, stamani mentre venivo al lavoro in 5 minuti di prove quindi insomma, può essere utile adesso cerchiamo di risolvere il problema che ho l'aspiratore accesa da qui si può anche cancellare naturalmente vediamo di sistemare, dai ciao 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 ciao